buonasera benissimo stasera vi voglio preparare un piattino un po sfizioso trofie fatti a mano con mazzampolline asparagi gonciale pecorino quindi abbiamo già preparato i nostri asparagi li abbiamo fatti a pezzettini e sbollentati appena appena non devono pocere molto rimanere pelli cortanti abbiamo preparato la bisque con il carapace delle delle nostre mazzancolle li abbiamo già pronti così lo possiamo utilizzare l'acqua bolle le trofie sono pronte vediamo la nostra padella ecco qui le trofie ciao pascal buona serata ciao sergio qualche pomodorino piccadilli le nostre mazzancoline che abbiamo già pulito ciao giu accetta fra poco faccio prestissimo giu tranquillo pecorino guanciale ed erbe aromatiche bene possiamo procedere la nostra padella è calda olio e stravergine facciamo presto che giu deve guardare la partita ok mettiamo uno spicchiettino un po' d'aglio ecco qua ecco qua eccoci è veloci veloci un po' d'aglio un po' di scalogno matto e i nostri direttini di gattipela e diamo un po' di sapore al nostro piatto ecco chi chiama a questo finito aggiungiamo il nostro lanciare abbiamo già fatto i cipini eccolo qua facciamo che friggiamo insieme andiamo a diventare bello trasparente e trattante buonissimo aggiungiamo il nostro sparaggi e ripartiamo e ecco ciao Gim saluta mia florida visto che non siamo stati velocissimi lo abbiamo messo poco poco ecco qua tutto bello rosolato perché è fitta un bel saporino e aggiungiamo i nostri piccadilli ecco il nostro piccolore perfetto adesso aggiungiamo le nostre lanciare con le ecco le qui aggiungiamo un pochino a posto bene ecco ci sta appena poco 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 sale perché abbiamo visto cose belle sapide quindi ci sono fulgheratina di sale un saldino di vino terminiamo leggermente ecco qua ecco qua siamo pronti siamo quasi pronti sì Gim un piatto di mare ma anche di montagna ecco qua bello saporito lo facciamo questo piattino ora quando abbiamo sfumato con il vino aggiungiamo un pochino della nostra pizca con il vino con il vino Grazie. Abbiamo già sfumato il tutto, siamo pronti, un pochino di disco, facciamo insaporire bene. Eccoci, bene a questo punto facciamo mettere in acqua le nostre proprie, li faremo appena sbomettare e le facciamo terminate di cuocere nel nostro vendimento in padella, quindi le proprie ecco qua, le scendiamo in acqua nel bolle. Ecco qua, il nostro sudetto è pronto, avete visto come siamo stati veloci? Stai facendo i calamari Jim, bravo, buoni anche i calamari, ma anch'io stasera faccio i calamari, faccio tutti la maricchia e la luciamo, ecco, ci siamo eh, facciamo una bella mantecatura che è la cosa più importante per far prendere sapore alla nostra pasta. Poi la biscoa che rimane potete anche suggerarla e utilizzarla in un altro momento, quando volete fare un piacchino di mare, un bel sottino, se l'avete già pronta e la potete utilizzare. Ecco qua. Eh Gio, non l'hai mai visto questo piatto perché me lo sono inventato io stessa, come stesso faccio, lo sai no? Ho la testolina matta. Eccoci, ci siamo quasi, dobbiamo andare a vedere la partita, ecco, facciamo terminare di cuocere il nostro condimento. Come abbiamo già imparato diverse volte, la pasta la facciamo terminare di cuocere il nostro condimento. In questo modo chisserà un bel sapore. Ah Gio, mi vuoi proprio far lavorare, mi vuoi far dire il ristorante. Sì, ho dato, ho dato. Vedete come è bella colorata? Allora, mettiamo un po' di basilico, eccola qua. Facciamo cuocere un altro pochino e il top finale. Gio, famotico, ti chiami così? Ho pronunciato il tuo cognome. Va bene? Alla brava? Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Facciamoci ancora un minutino. Vedete come è diventata bella cremosa già? L'amido della pasta fa cremare tutta la nostra, il nostro piatto. chiediamo al processo di gelatificazione della pasta. Ecco qua. E parliamo anche queste questioni. Cosa faccio? ecco un pochino la facciamo cuocere e ci siamo quasi eccola facciamo tirare il pochettino e poi una spezzatina di pecorino grazie eccoci qua siamo quasi ecco la le cani romano in cina si beh a roma c'è un'ottima cucina la romana giustamente abbiamo una cucina molto bella, favorita, importante poi roma è in un posto stupendo abbiamo il mare, abbiamo i monti, abbiamo tutto un prima spettacolare eccola qua, vedete che è bella cremosa già ora dobbiamo spegnere il fuoco mi raccomando quando mettete il formaggio nella masticatura a poco spinta mettete il frigorino non potete esagerare se non accopre i nostri sapori il nostro piatto è pronto possiamo procedere di piattarlo prendiamo un bel piatto guardare i nostri sapori 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 e certo l'Italia è tutta bella ecco qua il nostro piatto piatto importante, saporito bello colorato è pronto bene, buon appetito e vi lascio guardare la partita ciao ciao grazie John, ciao ciao Jim, ciao a tutti, buona serata